Dramma da Gugliaro, nella provincia di Vicenza, dove questa mattina si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di tre persone, tra cui purtroppo anche una bambina. A sinistra è venuto intorno alle 11 di oggi in via Ponticelli, dove si sono scontrate una moto e un'auto nelle vicinanze di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione, le vittime sarebbero il motociclista e una mamma con la figlia di 7 anni che erano in auto. Ci sarebbero altri due feriti, le cui condizioni sarebbero gravi. Si tratta del papà della giovane vittima e del fratellino che viaggiavano nella stessa vettura. Ancora tutta da chiarire, la dinamica dello schianto.